Buongiorno a tutti. Allora, le call news riguardano un argomento solo, una bellissima, interessantissima intervista che è stata fatta quando è iniziato il suo tour la scorsa estate un cantante italiano, italianissimo, anche se lui è nato non in Italia, perché se non erro, il grande cantante italiano non è nato in Italia, andiamo a vedere, Santa Wikipedia, infatti è nato in Vietnam e pensavo fosse più giovane invece ha già i suoi annetti anche lui, ma andiamo a vedere chi è perché ho parlato anche troppo e l'intervista è molto lunga ragazzi, però per chi ama questo cantante Ricciolone, beato lui, potrebbe essere bello sentirla perché magari non lo sapevano che ha fatto questa intervista. Comunque è partito lo scorso 19 luglio ed è terminato il 6 agosto, il piccolo tour di Riccardo Cocciante, dal titolo Cocciante-Catta-Cocciante, in cui il cantatore di Bella Senz'Anima, Celeste Nostalgie e Margherita è dolce, Margherita è vera, e Margherita si è esibito fino allo scorso 6 agosto nei luoghi più suggestivi del nostro paese, diretto dal maestro Leonardo De Amicis, da Armarostica a Bergamo, da Pompei a Roma è andato un po' da per tutti. Tutti cantano Cocciante ma lo hanno intervistato per chiedergli qualcosa in più sulla sua enorme carriera. Non tutti sanno che lei iniziò nel 1972 con Moo, un album progressive rock. È stato realizzato in pochissimo tempo perché aveva un contratto con la RCA che poi è stato chiuso. Subito dopo ne ho fermato un'altra e bisognava fare uscire il disco. Con Marco Luberti e Paolo Mirigo-Cassella abbiamo creato questo concept album registrato in 15 notti. Gli chiedono come in 15 notti? e non c'erano posti negli studi RCA ma alla fine è stata un'uscita originale. Mi discostavo da tutto quello che c'era all'epoca. Ero un alieno per come cantavo. E gli chiedono cioè in che senso? Ero mezzo rock e mezzo melodico. Moo è un lavoro che mi ha soddisfatto moltissimo. E gli chiedono ma il disco successivo Poesia? Non mi è piaciuto a parte il pezzo Poesia che si fece strada. E gli chiedono come mai non le piaceva. C'era un produttore che non voleva interpretarsi le canzoni come canto io. Voleva plagiarmi. Chiedeva che io cantassi un po' più normalmente. Mi arrabbiai molto ma da quella arrabbiatura come reazione nacque il disco Anima dove era contenuta appunto Bella Senz'Anima. La mia fune a reazione totale a questa imposizione scusate devo girare pagina di cantare come si deve. Io non canto come si deve. E gli chiedono sì ma come canta? Io sono un impressionista. E gli chiedono ci spieghi cosa intende? E il buon cocciante dice sono impressionista per diverse ragioni. Le mie canzoni sono al 90% allegoriche. Canto emozioni. Come un impressionista tolgo la forma e lascio l'idea concretizzata in musica e parole con gli autori con cui lavoro. Ah beh abbiamo capito ma torniamo un attimo sul suo primo lavoro. In realtà prima avevo cantato per la colonna sonora del film Roma Bene di Carlo Lizzani. Interpretai tre brani in inglese grazie a Luis Bacalo. E gli chiedono come è andata? Cercavo un giovane che interpretasse pezzi d'inglese. Quando mi vide disse subito di sì. Era entusiasta per come affrontavo questi pezzi. Ne sono molto fiero. Gli chiedono ancora tornando a Mon perché non ha continuato col progressive rock. E lui risponde non lo so perché. Forse sì. Avrei dovuto continuare con un rock melodico più accentuato. Mi sono lasciato trascinare da una maniera che amavo all'epoca. Mi ho iniziato col rock e rhythm and blues. Con il mio gruppo facevamo i brani di Otis Reding e Jimmy Hendrix. Mi sono lasciato trasportare dalle onde. Non può essere definita la sua prima opera moderna? Gli chiedono. E lui risponde sì c'era qualun qualcosa. Quando ero giovanissimo a Saigon la mia cultura veniva dalla Francia ma dall'Italia mi arrivava l'opera classica che sentivo molto. C'era in me una predisposizione a fare questo racconto in musica che non è ovvio. E gli chiedono in che senso? Ci sono compositori bravissimi che fanno canzoni splendide ma poi non riescono a fare un racconto in musica. Perché è un'altra storia. Io ce l'avevo dentro e in mu si capisce che c'era questa possibilità. Dopo tanti anni è uscito Notre Dame de Paris. Amo profondamente l'espressione operistica dei nostri compositori italiani e anche di Mozart. C'è il rispetto delle medordie del testo ma anche della voce. Gli chiedono come viene utilizzata nell'opera? In un modo splendido ma che non si può più usare oggi. I tempi cambiano si canta in un altro modo. Ho amato molto anche la musica nera perché utilizza la voce martirizzandola e io canto martirizzando un po' la mia voce. È un modo di espressione e anche se non è perfetto amo questa imperfezione che rende umana l'interpretazione e quello che si vuole raccontare. Ma gli chiedono torniamo ad Anima e partiamo dal titolo. Qual è la sua anima di uomo e artista? E il buon cocciante rispose Anima è stato scelto come gioco di parole con la canzone Bella senza anima e perché non avendo un fisico abbastanza rappresentativo mi sono rifugiato dentro di me. Ero chiuso, introverso e usciva solo l'anima. Chiudevo gli occhi, cantavo e finiva così. Non cercavo l'esteriorità. Inseguivo dentro di me, nell'anima, un modo per esprimermi. Gli fanno notare che in quel disco c'è anche quando finisce un amore. Quel pezzo cosa le ha dato? E lui risponde lo adoro. All'epoca quando si usciva con un disco c'era un singolo che poteva schiacciare tutti gli altri pezzi, come se non esistessero più. Ho questa fortuna di avere due brani per ogni album. Uno era il singolo e il secondo usciva per merito acquisito. Il pubblico lo ha eletto. Cerco sempre di fare così. Molti pezzi sono usciti in maniera imprevista rispetto a quelli scelti dalla casa discografica. Un tempo poi si facevano i dischi, non solo le canzoni. E loro gli chiedono cosa intende dire? Ogni disco voleva raccontare un momento della vita. Oggi sembrano più pezzi messi insieme, uno dietro l'altro, giusto per fare un album. Noi, quella della mia generazione, cercavamo di creare un mondo ogni volta diverso. Com'è successo per concerto per Margherita con cui ha lavorato con il grande Evangelis recentemente scomparso? Sì, abbiamo lavorato insieme a Londra, ma vorrei menzionare tre collaborazioni. La prima è con Emilio Morricone, con Ennio Morricone, scusate, chiedo bene al grande maestro, con il quale ho collaborato in anima. Quando finisce un amore è arrangiata da lui. Che ricordi ha? Lui non capiva bene come componessi, perché non sono un musicista, non leggo la musica, non la scrivo, è tutto istintivo. Diceva che ero come un gatto che cadeva sempre sulle zampe. Ho amato molto il suo intervento nelle mie canzioni. Ha dato un'eleganza che non c'era. La seconda collaborazione immagino sia con Evangelis. E infatti lui dice, anche lui non scriveva la musica, non la leggeva, suonava e basta. Improvvisava eternamente e non ricordava più niente di quello che aveva fatto cinque minuti prima. Lui sentiva i pezzi e improvvisava con le sue tastiere. C'era una magia incredibile. Arrivamo ad arrangiare tutti i pezzi del lavoro, tranne Margherita. Alla fine mi disse, i pezzi ce li hai, perché non togli Margherita? Punto di domanda. E lei cosa rispose? Ma come? Sei pazzo? È proprio il pezzo che abbiamo scelto. Il disco si chiama Concerto per Margherita. Con lì è stato un lavoro molto interessante, un completamento. Amo i musicisti e le persone che mi arricchiscono. E gli chiedono, ha detto che sono tre, mi dica la terza menzione per chi è. Paul Bachmaster, l'arrangiatore di Elton John che ha arrangiato con Chant nel 1982. Un ricordo bello. Loro tre, Morricone, Evangelis e Bachmaster, sono talenti. Ecco, amo confrontarmi con questo genere di artisti, anche se in contrasto con loro. E gli chiedono, beh, visto che si parla di contrasti, qual è stato il più grande contrasto che ha avuto? E lui dice, Luc Plamondon e Pasquale Panella, gli autori rispettivamente dei testi della versione francese italiana di Notre Dame de Paris. Mi piace lavorare con persone che non vanno nella mia stessa direzione, perché esce qualcosa di nuovo. Quello che dice Heller quando due persone hanno due idee diverse, se le scambiano e tornano a casa ognuno con un'idea nuova. Poi può piacere o non piacere. Gli fanno notare che nel 1981 ha suonato al Key Q concert il live con Rino Gaetano e New Perigeo. E cosa ricorda? Che persona era? Gaetano. Mi sembra strano che oggi le nuove generazioni identifichino spesso Rino Gaetano con A mano a mano. Trovo bello che i pezzi viaggino, che non rimangano fermi. La stessa cosa successe con Laura Pausini e Io canto. Le canzoni devono poter vivere. Torniamo al QC concert con Gaetano. E lui dice, il direttore artistico della RCA faceva concerti a tre mettendo a confronto gli artisti, quasi uno contro l'altro. Eravamo così diversi io, Rino e New Perigeo. Scusate, devo girare la paginetta. Aiuto? Ma era bello ritrovarsi insieme. Abbiamo dovuto interrompere purtroppo per Rino. Poi stava scoppiando Cerva Primavera e non c'era più l'equilibrio di prima. Che persona era Rino? E lui gli dice, aperta, piacevolissima, sempre pronta a parlare e a discutere con gli altri. Quello che è successo nella sua vita, un po' disordinata, lo ha portato a subire l'incidente. Peccato, era un grande talento. Gli fanno notare. Ha citato Cerva Primavera. Con quel gran brano è iniziato il sodalizio artistico con Mogol. Cosa ha rappresentato per lei? Con Luberti e Cassella abbiamo scritto diversi dischi, ma avevo l'etichetta del cantante arrabbiato e triste, che non proponeva qualcosa di più solare. Ho trovato con Mogol la parte lucente che, alternata a quella scura, diventa interessante. Da quel momento mi sono alzato dal pianoforte. In che senso? Che significa? E dice, per me era un problema essere sul palco e cantare in piedi. Cervo a Primavera mi ha dato il lato solare. È stato come essere un comico che sa fare il tragico, un attore drammatico che sa essere pure divertente. Gli chiedono qual è stata la sua canzone più sottovalutata. E lui risponde, non ho fatto quest'analisi, ho cercato di capire quello che preferivo e penso sempre a quando finisce un amore. Gli chiedono se ha un rimpianto. E lui dice, durante tutta la mia carriera non ho mai avuto il privilegio di essere ultraprimo. Ero sempre in concorrenza con nuove proposte e mi arrabbiavo perché non riuscivo a emergere rispetto a qualcuno che, certe volte, non meritava. Ma è stato un bene. E gli chiedono, davvero? Ma sì? Ah sì? E lui dice, sì, perché le mie canzoni non sono nate per essere dei successi, ma per il bisogno di scriverle. Forse hanno più probabilità di esistere nel tempo perché non sono state bruciate dal momento. Certe volte ci sono pezzi che non se ne può più di sentirli. I miei, invece, hanno un po' di sobrietà e non erano di moda per l'epoca, anche se questa cosa mi ha fatto danni. E gli chiedono in che senso, cioè? E lui dice, io non ho mai voluto far parte dei cantatori politici che avevano vetrine come la festa dell'unità. Non essere mai di moda ha avuto declinazioni positive nel tempo, anche se all'epoca me ne lamentavo. Ma quindi come definirebbe i suoi pezzi? Gli chiedono. Le mie canzoni sono mie, non fanno parte di una moda. Margherita era il brano d'amore per eccellenza, uscito nel momento politico italiano più forte. Non mi aspettavo il successo, invece è uscito ed è subito esploso. Però ultraprimo una volta ci è arrivato, a Sanremo, nel 1991. Vinse come se stiamo insieme. Se ne aspettava? E lui risponde, già per me andare a Sanremo era la cosa che non dovevo fare. Ma con la casa discografica decidemmo di rischiare, perché la mia generazione non apprezzava il lato troppo commerciale della Kermess. Per me fu assurdo. Avevo vicino gente di altissimo livello come Renato Zero e Marco Masini all'apice. Era un confronto duro. Ho vinto. Non tutti erano d'accordo. Essendo un po' fuori dal contesto, ho penato a impormi. Poi però non c'è più tornato in gara al festival, gli fanno notare. Non amo ripetere le grandi esperienze come The Boys, perché vorrei venire a entrare in un ingranaggio. Faccio la mia carriera rischiando qua e là. L'ho fatto con Notre Dame de Paris, che avrebbe potuto uccidere la mia carriera se fosse andata male. Cosa ricorda della vittoria Sanremese? Gli chiedono. Che dissi? Mettendovi un po' tutti contro. L'ho fatto. L'ho vinto, ma non tornerei più. Non voglio tornare a Sanremo per dare lustro a un momento. È una scelta, la mia, senza essere contro al festival. Ci sono persone che vanno tutti gli anni. È una decisione personale, ma non la mia. Gli chiedono chi le piace tra le nuove leve della musica? E lui risponde. Non amo chi segue l'onda, anche se ci sono canzoni belle. Amo l'urto, quello che non si doveva fare, e dice fuori lo stesso. Come i Maneskin, che hanno rischiato a fare un tipo di rock che prende ispirazione dagli anni 60 e 70. Hanno fatto bene. Anche Mahmood ha una proposta originale che si discosta da tutti gli altri. A livello internazionale mi piace molto Stromae, che ha associato la personalità di Jack Brel con la musica attuale. E poi lo apprezzo per come vive il palco. Gli fanno notare che nella precedente intervista, mentre stava preparando un disco di inediti, aveva fatto anche una sua personalissima versione della Turandot. Che aggiornamenti mi dà, visto che il prossimo anno festeggerà i 50 anni di carriera? Con Turandot ci siamo fermati per il Covid, ma è tutto pronto. Dovevamo fare la prima, ma poi il virus ci ha stoppati. È stato un bene. Se avessimo iniziato a farlo, sarebbe stato peggio interromperlo. L'anno prossimo invece esce un disco di inediti. Tra i suoi festeggiamenti c'è uno show tv, gli chiedono. Non c'è ancora, forse ci sarà, ma nulla di programmato. Gli hanno domandato quanto ha influito la pandemia sul suo lavoro. È la prima volta che mi fermo così tanto tempo. È uscita fuori una nuova composizione, un'opera completa. Lo stop è servito a qualcosa. Poi gli chiedono che mi dice invece della guerra? E lui risponde, gli uomini sono incorreggibili. Pensavamo di essere usciti da queste guerre, ma ci ritorniamo. La nostra umanità è fatta di pace e di guerra. Dobbiamo rassegnarci. È terribile perché ci fa capire i pazzi che ci sono ancora in giro. E siamo nel primo momento di persone atipiche e violente. Come Trump, è stato traumatico vedere un capo di Stato agire e pensare a quel modo. L'uomo vuole sempre più potere e il potere fa impazzire le persone. Mi sembra che con Trump però di guerra non ce ne siano state. In compenso è arrivato Biden e è andato a rompere le balle. Lei oggi che artista si sente? Un pianeta a parte. Contento di esserlo perché l'ho scelto io da tanto tempo. L'artista che può sperare di rimanere è perché ha un mondo per il suo personale che combatte, a volte con difficoltà, ma che lo caratterizza. Quando si sente una mia canzone, subito si capisce se che sono io come melodia e armonia. Sono fiero quando un giornalista, parlando di Notre-Dame de Paris, mi ha detto «Ma questo sei tu!» e io ho risposto «Ma chi doveva essere se non io?». Sting, che io apprezzo molto, si è messo a scrivere un'opera imitando Puccini e non si riconosceva più lui. Avere questo mondo prezioso è difficile, va combattuto e io tutta la vita combatto e combatterò ancora. Bene ragasoli, fatemi sapere cosa ne pensate del buon Cocciantone. Io vi saluto, vi ringrazio. Mi fermo qui perché mi sono dilungato troppo, ma ero troppo ghiotta a questa intervista al grande Cocciante che ho voluto regalarvela. L'ho trovata sul web, ve la regalo. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!